L'immagine fa parte del suo lavoro, e non si vergogna ad ammettere di essere ricorsa alla chirurgia estetica per di avere qualche taglia in più di seno che tanto desiderato. Alla vigilia dei 30 anni, però, Anna Tetangelo non gli dà poi così importanza, anzi, è convinta che la vera femminilità si nasconda in altre cose Il seno l'ho rifatto a 18 anni, ha spiegato in un'intervista su Grazia, un paio di mammelle grandi mi sembravano più femminili Ecco tutto È passato un secolo da quella scelta ed è andata bene così Adesso so anche che la sensualità non sta in un bel paio di tette A farla sentire donna il suo compagno, Gigi D'Alessio, e loro figlio Andrea, che oggi ha 6 anni Nonostante sia una compagna e una mamma impeccabile, però, Anna Tetangelo non rinuncia alla sua indipendenza e al suo lavoro Dal primo dicembre al cinema con Natale al Sud, vuole sperimentarsi come attrice ma anche provare nuove cose, ho voglia di completarmi, di provare altre vie, non posso pensarmi uguale all'infinito Ho soprattutto voglia di riscoprire la mia parte più divertente, ironica Quella che nessuno può No!